Un tavolo tecnico con la regione per cercare di scongiurare l'apertura del megacentro commerciale di Due Carrare a breve distanza dal castello del Cataio. L'annuncio del sindaco Davide Moro che è stato contattato proprio in queste ore da un'amministrazione regionale che, come ha detto Zaia ai nostri microfoni, sta seguendo la vicenda con estremo interesse, arriva dopo l'ampia manifestazione di cittadini, associazioni, amministratori locali che lunedì sera hanno sfilato fin sotto le finestre del suo municipio. Non ho partecipato alla fiaccolata perché secondo me sbaglia l'obiettivo. Il Comune non può fermare questa procedura. Se io non firmo il nuovo accordo di programma questa ditta ne ha già uno firmato con tutti i permessi. Se non firmo una cosa non è che si blocca il centro commerciale. Moro si sente chiamato in causa al di là delle sue responsabilità in quello che oramai sta diventando un caso nazionale. È una vicenda complessa, ferma per la quale non esistono risposte semplici. Una risposta che proponiamo noi è l'allargamento dei confini del Parco Colli che metta sotto tutela l'area interessata. La magistratura gli ha dato la possibilità di edificare, quindi lì per il momento c'è D4, area, zona, centro commerciale integrato e il privato vuole esercitare questo suo diritto. Secondo me la politica deve seriamente mettersi in gioco per trovare i limiti, le mitigazioni, oppure come ho già detto a livello ministeriale si decide come si fa in un libero mercato in cui siamo noi, si compra l'area, il ministero compra l'area, diventa area demaniale e la ripristiniamo ad area agricola.